Allora, prima di entrare, diciamo così, nel vivo del racconto di questo libro, e ci sarà anche un filmato che vedremo più tardi, vorrei invitare la senatrice, il vicepresidente del Senato della Repubblica, Valeria Fedeli, a trarre alcune conclusioni di questo intervento. Sì, intanto grazie innanzitutto per l'invito e devo dire anche per le stimolanti e interessanti testimonianze che sono state raccolte. Ringrazio tutte le autorità civili e militari e anche tutte voi e tutti voi che siete qua presenti. Devo dire che voglio fare un ringraziamento particolare al Presidente Roberto Placido e al Comune di Torino, agli istituti della Resistenza, all'AMPI e all'Istituto Storico della Resistenza Piemontese. E voglio dire subito, fuori scaletta, come si usa dire, istituzionale, una cosa. Noi dovremo in questo nuovo Parlamento batterci perché i contenuti e la conoscenza della Resistenza entrino a pieno titolo nelle scuole, nell'informazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Per questo ha un valore particolare anche la giornata di oggi. E grazie devo dire a tutti i rappresentanti delle altre regioni che hanno scelto di essere qui oggi con noi e ci hanno raccontato la storia vista dalle terre di partenza di chi oggi noi ricordiamo. Guardate, io credo che per ciascuno di noi, sicuramente per le istituzioni, sicuramente per il Senato della Repubblica, ricordare la Resistenza è sempre un grande onore. Chi mise in gioco la propria vita per riaffermare la libertà e la democrazia merita sempre, secondo noi, la nostra riconoscenza e ammirazione. Penso ai pochi giovani che sono qui in sala e penso quindi che anche il lavoro, poi che ascolteremo del professore e il video, dovrebbero circolare lì. Ricordare nello specifico il contributo alla Resistenza piemontese dei partigiani meridionali mi pare un'iniziativa davvero di grande valore, sia in termini storici, sia per il segnale di unità al Paese che torniamo a dare oggi come allora. Le esperienze del Nord, dove la Resistenza con l'occupazione tedesca e la Repubblica di Salò fu più intensa e diffusa, e quelle del Sud, dove l'arrivo degli alleati, veniva detto secondo me correttamente, condizionò diversamente la lotta di liberazione, sono spesso raccontate come storie diverse e scollegate. Credo invece, come qui oggi in Piemonte viene narrato, che la Resistenza sia stata, come ha più volte ricordato il Presidente Napolitano, una grande lotta per la liberazione, ma anche per la riunificazione dell'Italia. Parlando il 25 aprile del 2010, il Presidente disse, non è solo la festa della liberazione, è anche la festa della riunificazione dell'Italia. Napolitano ci indicava come le condizioni sono ormai mature, diceva allora, per sbarazzare il campo dalle divisioni e incomprensioni a lungo protrattesi sulla scelta e sul valore della Resistenza, per ritrovarci tutti in una comune consapevolezza storica della sua eredità più condivisa e duratura. Vedo in ciò una premessa importante di quel libero, lungimirante confronto e di quello sforzo di raccoglimento unitario di cui oggi ancora l'Italia ha un grande bisogno. Con la Resistenza, continuava il Presidente, Rinacque proprio l'amore, il senso della patria, il più antico e genuino sentimento nazionale. Cito queste parole perché oggi l'Italia ha ancora, io credo, bisogno di quel raccoglimento unitario, di quelle migliori forze che nella società e nella rappresentanza economica, sociale e politica ci sono, esattamente per rilanciare tutto ciò. Vedete, da qui nacque la più straordinaria Costituzione, diciamo la Costituzione più bella del mondo, un po' qualche orgoglio italiano bisogna pur averlo, che sì, io sono molto d'accordo col Presidente della Provincia, ed è un messaggio importante da dare anche qui oggi, sì, va prima applicata, immagina quanti articoli non sono ancora stati applicati anche sul terreno delle diseguaglianze cresciute in Italia. E poi va innovata, certo, ma mai, ma mai dimenticare che la prima parte della Costituzione è la nostra più straordinaria identità democratica. E i tanti meridionali che si riunirono alla Resistenza piemontese rappresentano proprio questo senso profondo di riunificazione. Veniva detto, in Piemonte quasi 7.000 meridionali, uomini e donne, per lo più giovanissimi, parteciparono attivamente nelle diverse formazioni partigiane alla lotta di liberazione. Chi con ruoli di comando, chi come semplice militante partigiano, ma di grande valore sempre, parteciparono alla Resistenza immigrati e figli di immigrati arrivati durante il fascismo in cerca di lavoro, con la speranza di cambiare le proprie vite, e trovando un posto nelle fabbriche del Nord. Ma parteciparono anche molti militari del Sud, che dopo l'8 settembre si trovarono, anche qui veniva detto e secondo me verrà poi ben illustrato anche successivamente, sbandati, abbandonati al proprio destino, lontani dalla propria casa. Così, tanti che erano nelle caserme piemontesi si dispersero nelle campagne e molti allora scelsero di entrare nelle formazioni partigiane. persone, guardate anche questo è importante per capire oggi il Piemonte, che trovarono proprio nell'esperienza della Resistenza il sentimento di appartenenza e solidarietà, una comunanza che molti avevano dimenticato lasciando proprio le proprie terre d'origine. Si faceva l'Italia e la si faceva insieme, pensiamo anche ai nuovi migranti. Parole che devono essere anche oggi conosciute e riconosciute da tutti e ridare valore alla nostra grande capacità di accoglienza e di integrazione. Che fossero del nord o del sud, che fossero operaio impiegati, che fossero cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti, tutti i partigiani scelsero di battersi per un solo orizzonte. L'orizzonte comune, l'Italia libera. La liberazione ha restituito agli italiani il senso pieno, positivo, partecipato di essere un solo Paese, una straordinaria comunità. Posso dire qua, in questo teatro e di fronte a voi, che anche la parola comunità deve tornare ad avere cittadinanza e piena legittimità anche nel nostro Paese oggi, tornare ad avere valore. Comunità vuol dire non avere nemici dentro, ma saper costruire insieme il futuro. Il contributo dei meridionali, spesso poco celebrato anche per la dispersione che seguì alla guerra, con tanti che tornarono alle famiglie, ai Paesi di origini, è parte anche di questa ricostruzione, sia nella fase della liberazione che alla costituente. Mi piacerebbe anche su questo uno studio sulla partecipazione dei meridionali alla costituente, perché anche questo è un altro degli elementi che fa parte della fase successiva, lotta di liberazione e la nostra costituente. costituente, perché anche qui credo che vada ridato peso valore a tutti i partecipanti, non solo alla straordinaria figura che per chi mi conosce sa un valore particolare di Giuseppe Di Vittorio, ma ce ne sono tanti altri. Si tratta di una delle esperienze più significative di un positivo rapporto tra nord e sud del Paese. Un'esperienza che ha coinvolto un numero limitato di persone, ma con un decisivo valore simbolico. E i simboli fanno cultura, fanno pratica, creano cittadinanza. Certo, il senso di comunità che la resistenza aveva cementato si è poi disperso negli anni, purtroppo. Oggi il nostro Paese è frammentato, preda di pulsioni particolari, schiacciato anche nelle prospettive di sviluppo da divisioni storiche, come quelle tra nord e sud, e da nuove divisioni, da populismi, da inimicizie. Ecco perché ritengo ancora più importante ricordare e celebrare le storie di chi partecipò, senza remore, senza chiusure identitarie, alla lotta per restituire la democrazia e affondare la nostra Repubblica. Per non dimenticare pagine importanti di una memoria collettiva che abbiamo oggi la responsabilità di far rivivere come base per il futuro da ricostruire tutti insieme. Oggi dobbiamo sapere trovare lo stesso coraggio di chi, estenuato da oppressione e violenza, scelse di lottare per un ideale, credette alla possibilità di migliorare le cose, si trovò parte di una comunità che stava rinascendo. Dobbiamo ritrovare, io credo, in noi stessi la forza, la lucidità e la responsabilità per reagire e ritrovare e dare speranza, per ricostruire le infrastrutture etiche e di uguaglianza nel nostro Paese. Lo facciamo, ed ancora vi ringrazio, anche ricordando le storie di donne e uomini che ad un certo punto della vita hanno sentito, nella testa e nel cuore, che c'era qualcosa di importante per cui unirsi, per cui battersi, per cui rischiare la vita, qualcosa che si chiama libertà, qualcosa che si chiama Italia, qualcosa che unisce nord e sud del Paese. Ecco come la liberazione diventa festa di rionificazione, c'era da far rinascere l'Italia, riunirla in una prospettiva comune, esattamente come oggi, in situazioni ovviamente profondamente diverse. Ripensare al ruolo dei meridionali durante la Resistenza e poi nel complessivo percorso costituente significa ritornare su disuguaglianze oggi purtroppo molto vive. La riunificazione del Paese non può che passare dalla riduzione degli squilibri nord-sud e dalla riscoperta di un comune futuro, di una solidarietà nazionale che sia orgoglio positivo e non solo necessità di sopravvivenza. Non stiamo facendo un regalo a nessuno, ma a noi stessi, quando cerchiamo di avere nord e sud uniti. Veniamo da anni in cui si è diffuso un senso comune, secondo cui il sud è la negazione del nord. Al nord ci sono i valori positivi, economia, dinamismo, mentre al sud solo stereotipi negativi. Lo dico essendo nata in un Paese vicino a Bergamo. Questa del nord e del sud differenti su valori e condizioni è una straordinaria bugia che va battuta tutti i giorni. Il sud è punto di vista estremo di un'unica polarità cardinale che lo oppone al nord in una relazione di indissolubile complementarietà. Senza l'uno non esiste l'altro. Mai dimenticarlo, anche nel nostro rapporto e nella nostra vita quotidiana. Il sud, come il nord, come tutto il Paese, ha bisogno di un progetto, di una prospettiva da realizzare. Ha bisogno di istituzioni efficaci e trasparenti, di buone pratiche che diventino buon esempio. Ha bisogno di guida responsabile. Ha bisogno di una classe dirigente pulita, disinteressata, capace. Ha bisogno di buona politica. Ha bisogno di voglia di rilancio, di coraggio e determinazione, di innovazione. Ha bisogno di un reale cambiamento. Siamo arrivati troppo in basso. È quello che ci insegna l'esempio dei partigiani, l'esempio di giovani del sud e del nord che combatterono fianco a fianco. Siamo oggi, qui in Italia, di nuovo di fronte ad un bivio della storia. E dobbiamo saper reagire e tornare a sfidare noi stessi, intanto credendoci. Da una nuova idea, da una nuova consapevolezza, da una nuova prospettiva di Italia Unita deve partire la nostra sfida per tornare ad essere baricentro culturale ed economico di nuovo sviluppo. E lo dico qui, a Torino, nella terra di Gramsci e di Gobetti, nella terra in cui per prime, come ricordava anche Diego Novelli, sono nate cose straordinarie per tutto il Paese, dove non a caso oggi il Consiglio regionale e gli istituti celebrano questo riconoscimento del valore della partecipazione del sud alla lotta di liberazione, anche qui. Lo dobbiamo fare unendo le forze, valorizzando reciprocamente nord e sud, smettendo di considerare gli alternativi, uno la negazione dell'altro, iniziando invece a pensarci in modo più unito, con forte senso di reciproca e unitaria appartenenza alla nostra straordinaria Italia. Ma serve anche una riscossa morale, cui bisogna partecipare e deve partecipare tutto il Paese. Il valore della resistenza non è un ricordo storico, ma è ciò che definisce chi siamo. È un momento decisivo della nostra storia, che dobbiamo ricordare proprio per non perdere noi stessi. Le nostre radici sono la condizione per avere il nostro futuro. Sì, viviamo una fase storica inedita. Mai, come oggi, le istituzioni faticano a conquistare la fiducia dei cittadini, sfiniti dalla crisi e rabbiosi per le risposte che non arrivano. Il compito di rappresentare i cittadini impone oggi la necessità di abbandonare le vecchie strade che si sono rivelate senza uscita, fallimentari. E dobbiamo guardare con coraggio un campo arido, pieno di contraddizioni e impervio che abbiamo di fronte. Dobbiamo iniziare a tracciare nuovi percorsi, a ricostruire un senso unitario di comunità che si è perso, ripartendo anche dal superamento delle differenze tra nord e sud. E sapendo fare della capacità di integrazione un elemento di forza del Paese. Vale per le differenze geografiche interne come per la capacità di accoglienza di chi viene da altri territori. Sapendo riconoscere l'arricchimento complessivo che ogni comunità riceve dall'essere inclusiva e integrata. Voi siete una straordinaria esempio di questa capacità di integrazione. Ma certo oggi non possiamo dimenticare quanto recentemente è successo alla prima ministra nera del nostro governo e degli attacchi violenti che lei ha subito e continua a subire. Io credo che anche iniziative come quelle di oggi devono portare a far riconoscere a tutti il valore dei migranti e di cosa porta e cosa significa per tutti averli con noi. La resistenza è il bagaglio più grande di formazione per tante generazioni. Così come è stata esperienza di crescita personale e decisiva fino anche all'estremo sacrificio per tanti italiani e per tante italiane. Ricordarla ricordando la forza unificante celebrare le donne e gli uomini del sud e del nord che lottarono insieme è un atto di celebrazione di noi stessi di formazione di nuova comunità di apertura al futuro ancorata ai valori di tutti. Ed è per questo e concludo vorrei qui oggi con voi lanciare un appello ai nostri organismi nuovi e alla RAI. Io credo che la trasmissione La Storia Siamo Noi ha contribuito a informare a unificare a creare cultura ricordi e sentimento. Io penso che da qui debba partire l'appello La Storia Siamo Noi non può chiudere deve andare avanti come dobbiamo andare avanti noi a socializzare a ricercare e a conoscere la nostra storia. Grazie a tutti. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.